In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sedes Sapientiae Ora Pronobis. Bentornati carissimi fedeli per il commento al Vangelo di domenica prossima, che è la terza domenica dopo Pasqua. Naturalmente sempre per il vetus ordo. Ecco, il Vangelo è il brano di Giovanni, capitolo 16, dal versetto 16 al versetto 23. Lo leggiamo. Ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro, che cos'è questo che dice ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete, e questo perché vado al Padre? Dicevano perciò che cos'è mai questo un poco di cui parla, non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro, andate indagando tra voi perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete. In verità, in verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato la luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. Eccoci qua, carissimi fedeli, questo brano è inserito nella sezione in cui San Giovanni raccoglie i discorsi dell'ultima cena. Quindi prima ancora di subire la passione, di entrare nell'orto degli ulivi, Gesù fa questi discorsi ai suoi discepoli e sta dicendo questa frase «Ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete». Gesù parla per enigmi ai suoi discepoli perché sa che sono cose difficili non tanto da comprendere ma da accettare. Non vuole scaraventare su di loro tutta quanta la conoscenza della sua passione, della sua morte, della sepoltura, ma vuole farlo in maniera che loro possano intuire qualcosa senza essere sopraffatti dallo spavento, dalla paura, dal dolore. Quindi parla un po' per enigmi. Forse ha già detto in questa circostanza che uno di voi mi tradirà, lo dice nell'ultima cena. E' probabile che l'abbia già detto prima di questo discorso così enigmatico sul poco e poi mi vedrete, eccetera. Quindi il Signore vuole fare conoscere le cose un po' alla volta e questo fa parte della sua carità e del suo essere buono e misericordioso del suo prenderci per mano e farci camminare un passo alla volta e di non sopraffarci con le prove questo non lo fa mai anche con ciascuno di noi non è così immediato proprio per difendere difenderci dal pericolo della eccessiva tristezza dell'angoscia, della paura che potrebbero bloccare il nostro cammino nella fede farci deviare e portarci purtroppo alla disperazione questo è un pericolo che il Signore non vuole che noi corriamo pertanto un po' alla volta fa loro capire che si tratta di affrontare un periodo di sofferenza sarà poco in effetti sarà poco dal punto di vista del tempo il venerdì santo il sabato e già la domenica il terzo giorno la resurrezione e quando lo vedranno proveranno una grandissima gioia una gioia dice Gesù in questo discorso che nessuno potrà mai togliere a loro una gioia così profonda così intensa che nessuno potrà mai togliere in effetti la gioia di averlo rivisto nella resurrezione sarà la loro forza per affrontare la missione nel mondo intero per affrontare anche anche il martirio le persecuzioni e qualsiasi genere di prova avranno sempre dentro di loro questa esperienza straordinaria per cui sono forti come delle rocce nessuno può scalfirli perché hanno questa gioia dentro così dice anche un'altra cosa ecco il paragone con la donna che partorisce questo è molto bello perché fa capire che se anche dovranno soffrire quella sofferenza avrà un senso anzi non se ne ricorderanno più quando scopriranno il frutto di quella sofferenza come la donna quando nasce il bambino non si ricorda più di quanto ha sofferto per metterlo al mondo proprio per la gioia che è nato un uomo così che cosa nascerà da questa sofferenza nascerà il Cristo risorto rinascerà dalla tomba ma non soltanto rinascerà il Cristo risorto rinasceranno dal peccato dalla schiavitù del peccato tutti coloro che verranno battezzati in lui e crederanno in lui perciò quella sofferenza dell'orto degli ulivi dell'arresto del processo delle delisioni delle torture della crocifissione eccetera quella sofferenza avrà avuto un senso un senso meraviglioso un significato meraviglioso un frutto meraviglioso la salvezza del genere umano quindi ne era valsa la pena ecco che il Signore ci mostra questi aspetti positivi anche della prova e della sofferenza perché non ci perdiamo d'animo ma non sono favolette che si raccontano ai bambini spaventati sono realtà il frutto della gioia è vero è reale ecco certamente che questo discorso era valido per gli apostoli in quella determinata circostanza ma è valido per tutta la storia della Chiesa successiva la Chiesa ha affrontato difficoltà battaglie persecuzioni ostacoli di ogni genere in ogni epoca in ogni epoca la Chiesa ha dovuto soffrire se non in tutto il mondo in certe parti della Terra anche i nostri giorni ci sono cristiani che muoiono che affrontano la morte che sono in pericolo di morte perché vogliono manifestare la loro fede vogliono essere liberi nel praticare la loro fede come è diritto di ogni cristiano e anche nel nostro nel paese in Italia proprio in Italia da dove si è diffuso poi il cristianesimo in tutto il mondo anche adesso sembra che il piede dei poteri forti abbia un grande rilievo non addentriamoci sui problemi attuali certamente siamo in un'ultima fase nell'ultima fase di questi tempi di questi tempi dominati da Satana in cui la Chiesa sta soffrendo molto la Madonna ci aveva già messo in guardia a Fatima proprio quel messaggio che è stato così ostacolato e oscurato tant'è vero che non è mai stato reso pubblico in maniera completa e in maniera autentica si parlava già di apostasia di apostasia dai vertici della Chiesa i messaggi di Don Stefano Gobbi parlano proprio di un pericolo che si è inserito all'interno un nemico all'interno della Chiesa stessa attraverso la massoneria ecclesiastica e quindi mai come oggi ci troviamo in questo momento di confusione dov'è la Chiesa sembra quasi sparita perché qual è il suo principio di unità non può essere certamente l'impostore che agisce in nome e per i nemici che si è inserito e si è seduto nel luogo dove San Pietro dovrebbe sedere ecco dove il successore di San Pietro dovrebbe sedere il nostro principio di unità è nascosto il Benedetto XVI ma allora ecco il periodo vedete di difficoltà e di prova ma queste parole sono rivolte a noi ancora un poco certamente io penso che il Signore non potrà permettere che il suo popolo viva questa sofferenza troppo a lungo troppo a lungo i tempi del Signore non sono i nostri tempi questo è vero però il Signore non permetterà che siano prolungate queste sofferenze e allora la nostra gioia sarà meravigliosa grande e durerà per tanto tempo questa gioia nessuno ce la potrà togliere quindi carissimi fedeli bando all'angoscia alla paura allo sconforto gettiamo via allontaniamoci da queste cose teniamo presenti le parole rassicuranti del Signore restiamo fedeli al vero principio di unità che in questo momento è benedetto sedicesimo benché nascosto e benché impedito a parlarci a rivolgerci una parola ma sappiamo che è in preghiera prega per noi questa è già una cosa molto importante ecco e sappiamo che questo periodo durerà ancora un poco quel poco che il Signore conosce ma certamente non sarà al di sopra delle nostre possibilità quindi costanza pazienza sopportazione quella sofferenza che sarà necessaria anche a noi se vogliamo fare parte della della chiesa rinnovata dovremo essere tutti quanti persone purificate nella fede la tentazione di mettere avanti le mani di risolvere problemi con la nostra intelligenza adesso in anticipo prima che si presentino è mancanza di fede è mancanza nasconde una certa mancanza di fede una certa mancanza di fede perché questa prova è tutta sulla fede va bene la prudenza umana quelle regole ma non dobbiamo mica impazzire per trovare delle soluzioni noi no non è la strada giusta io vedo che il signore vuole il nostro bene e non ci abbandonerà sia lodato Gesù Cristo vi benedica Dio onnipotente padre figlio e spirito santo amen grazie a tutti